Sala Consilina, atti vandalici al palazzingaro, rotte le porte esterne. Sanità, meno posti letto negli ospedali campani, nuovi tagli dalla regione. Sant'Arsenio, domani incontro dei giovani democratici sul referendum del 17 aprile. Paladino spiega la posizione dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio. Banca Montepruno, ieri secondo appuntamento con tutti gli aspetti della crisi d'impresa. Eccellenza, Valdiano contro il Castel San Giorgio, non si può fallire. Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con il telegiornale di Uno TV. Apriamo con Auletta. Nei giorni scorsi il sindaco Pietro Pestolano è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omissione e abuso in atti di ufficio relativamente alla mancata esecuzione di un'ordinanza del 2010 della Procura della Repubblica di Sala Consilina che prevedeva il ripristino dei luoghi di un fabbricato di sua proprietà. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni del telegiornale. E passiamo a Sala Consilina. Vandali in azione al Palazzingaro. Rotte le porte esterne per danni da migliaia di euro. Duro il presidente del Claravì Spinelli. Sono schifato. Siamo allo sbando. Mancano regole e rispetto. Il Palazzingaro di Sala Consilina ha preso d'assalto da Vandali che nei giorni scorsi hanno rotto i vetri delle porte esterne recando danni alla struttura che ospita la Scuola Calcio ma anche il Futsal Clanavì per le gare interne del campionato di C2 e di Calcio a 5 e la Rosciano Distribuzione, squadra femminile di volley che milita nel campionato di Serie C. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi da un sopralluogo sull'opposto. E' chiaro il motivo criminale dei vandali che hanno infranto i vetri di tutte le porte esterne nella parte bassa e provocando danni per diverse migliaia di euro. Un fatto increscioso che ha sconvolto tutti gli addetti ai lavori che usufruiscono della struttura ma anche i semplici cittadini. Atti vandalici che potrebbero essere stati perpetrati in due diversi momenti dai soliti ignoti che non contenti di quanto fatto in un primo momento sarebbero ritornati sul posto per così dire completare l'opera. Un gesto condannato dalle istituzioni che hanno chiesto ai cittadini di aiutare e fornire quante più informazioni possibili per risalire agli autori del gesto ma anche dalle società che giocano le gare interne dei propri campionati all'interno della struttura in via Pozzillo. E sono proprio le società che usufruiscono dell'impianto a pagare le maggiori conseguenze di questo vile atto vandalico. Dure le parole del presidente del Fuzzaclaravi Vincenzo Spinelli. Sono schifato da questi comportamenti, si sta degenerando giorno dopo giorno e non si ha più rispetto per le cose e le persone. Nel caso specifico, aggiunge Spinelli, è stata colpita una struttura che ci consente di fare attività sportiva che è fondamentale per la crescita dei giovani. Purtroppo non ci sono regole, manca ogni forma di rispetto. Per questo, conclude il numero uno del Fuzzaclaravi, come società dal prossimo anno, con la creazione di una formazione di Uniones, vogliamo avvicinarci ai giovani, avvicinarli allo sport e alla cultura etica sportiva, nel tentativo di diffondere i principi e i valori sani che possono contribuire alla crescita umana della società civile. In Campania, sembra, verranno tagliati altri 700 posti letto. Si ipotizzano, infatti, ulteriori nuovi tagli per una regione che, stando ai parametri attuali, ha già meno posti letto di quelli previsti, registrando situazioni inaccettabili per un paese civile, come il ricorso alle barelle nei corridoi. La Campania è la regione con la popolazione più giovane d'Italia ed è per questo motivo che sembra venga penalizzata. Infatti, il Ministro della Salute vuole tagliare all'incirca 800 posti letto basando la decisione sul criterio dell'anzianità della popolazione. Secondo il Governatore Vincenzo De Luca, come riporta il mattino, le risorse del Fondo Sanitario Nazionale sono attribuite proprio tenendo conto di tale indice e poiché la nostra è la regione più giovane d'Italia, resta la più danneggiata nella ripartizione dei fondi. La Campania è sì la regione con l'indice di anzianità più basso, con un'età media di 40 anni rispetto ai 43 del resto del paese, ma è anche quella dove l'aspettativa di vita è minore, quindi è la più giovane ma allo stesso tempo la meno longeva. Un criterio assurdo, oltre che ingiusto, è che non riflette su tantissimi altri aspetti. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'anzianità della popolazione è uno degli indici a cui si deve far riferimento, ma vanno anche considerate tutta una serie di altre condizioni che in Italia sembriamo ignorare, come ad esempio quelle socio-economiche che restano un importante indicatore di morbilità. Abbiamo preso solo la parte negativa del provvedimento e quindi in Campania ci becchiamo il finanziamento più basso. De Luca intanto annuncia battaglia al Ministro della Salute se non tornerà sui suoi passi e ricorda che il Commissario della Sanità, Joseph Polimeni, e il Vice Claudio Damario stanno lavorando proprio in queste ore di intesa con la Regione al nuovo piano ospedaliero che punta ad aumentare i posti letto oltre a ripartire i nosocomi che in base al piano ospedaliero attualmente in vigore il Decreto 49 del 2010 vanno chiusi o riconvertiti. Domani mattina presso il Palazzo Fiordelisi a Sant'Arsenio il gruppo dei giovani democratici incontrerà la cittadinanza in un'assemblea per discutere e informare sul prossimo appuntamento referendario del 17 aprile. L'incontro avrà inizio alle ore 10 con i saluti del segretario cittadino Sebastiano Greco sono previsti anche tanti interventi tra cui quello del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni Tommaso Pellegrino. A Sant'Arsenio domani mattina il gruppo dei giovani democratici si incontreranno in un'assemblea pubblica e informativa dedicata al prossimo referendum. Domenica prossima i cittadini sono chiamati alle urne per il referendum sulla progazione di una parte del comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 152. I giovani democratici di Sant'Arsenio guidati dal segretario cittadino Sebastiano Greco domani mattina, domenica 10 aprile saranno presso Palazzo Fiordelisi a Sant'Arsenio a partire dalle ore 10 per illustrare ai cittadini cosa decideranno attraverso la votazione del quesito referendario proposto. Un incontro finalizzato ad aumentare la consapevolezza di cosa si andrà a decidere nel segreto delle urne. Il referendum del 17 aprile propone un unico quesito che riguarda l'abrogazione di una norma modificata con la legge di dicembre 2015 su un decreto legislativo datato 2006. Nel dettaglio all'elettore sarà chiesto se vuole che vengano abrogate e quindi cancellate dalla norma le parole per la durata di vita utile del giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Il referendum proposto da alcuni consigli regionali tra i quali anche Campania e Basilicata non andrà ad interessare ed ad incidere su eventuali nuove trivellazioni ma riguarda solo gli impianti già esistenti in mare entro le 12 miglia dalla costa per i quali i cittadini dovranno esprimersi se lasciare che continuino nella loro attività estrattiva fino ad esaurimento del giacimento oppure no. In Italia la maggior parte degli impianti sono ubicati oltre le 12 miglia dalla costa pertanto non saranno interessati dal referendum. 66 sono le concessioni estrattive marine rilasciate dall'Italia ad oggi e di queste 66 45 impianti sono posizionati oltre le 12 miglia dalla costa e quindi non rientrano nel quesito pertanto il referendum riguarderà le rimanenti 21 concessioni che invece si trovano entro questo limite e sono così distribuite una in Veneto due in Emilia Romagna una in Marche tre in Puglia cinque in Calabria due in Basilicata e sette in Sicilia questo ed altro sarà illustrato domani mattina nell'ambito dell'incontro promosso dai Giovani Democratici di Sant'Arsenio che in ottica di trasparenza e con l'intento di offrire sempre informazioni utili ai loro concittadini saranno alle ore 10 presso Palazzo Fiordalisi proprio per discutere del referendum del 17 aprile ad aprire lavori il segretario dei Giovani Democratici di Sant'Arsenio Sebastiano Greco a seguire gli interventi di Federica Fortino segretaria provinciale dei Giovani Democratici di Salerno Tommaso Pellegrino presidente del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni e Michele Masulli responsabili Europa ed Esteri dei Giovani Democratici Proprio a proposito del referendum del 17 aprile abbiamo raccolto le dichiarazioni dell'Avvocato Angelo Paladino che ci spiega la posizione dell'Osservatorio europeo del paesaggio ascoltiamolo il prossimo referendum sul petrolio la posizione mia personale e dell'Osservatorio europeo del paesaggio e di tutti gli osservatori sul paesaggio italiano è quella di votare sì al referendum invitando anche gli altri di votare sì al referendum bisogna dire che l'estrazione deve essere a termine quando la congestione è finita non si può rinnovare il mondo va verso fondi alternative al petrolio in prospettiva al 2025 noi dobbiamo aver registrato una riduzione del consumo di petrolio quindi pensare che si possa andare all'infinito a sfruttare il petrolio sarebbe controtendenza quindi dobbiamo metterci in linea col mondo e con l'Europa con quello che stava deciso a Parigi appena qualche mese fa e quindi dire di no a questa fonte fossile non deturpare il paesaggio non deturpare il patrimonio che è intorno a noi sviluppare le cose che sono in questo territorio l'agricoltura va rilanciata abbiamo bisogno di più agricoltura abbiamo bisogno di più turismo e meno petrolio per la salute dei cittadini io dico questo anche nell'interesse dei miei nipoti è un sano egoismo quello che vi sto trasmettendo ma spero che tutti i nonni e i padri come me seguano il mio esempio e vadano a votare sì il 17 di aprile è stata confermata la data delle prossime elezioni amministrative per il 5 giugno prossimo è arrivata infatti la firma sul decreto da parte del ministro dell'interno Angelino Alfano il ministro dell'interno Angelino Alfano ha firmato ieri il decreto con cui viene fissata domenica 5 aprile la data per le prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno anche quattro comuni del Vallo di Diano quali Montesano sulla Marcellana Padula Monte San Giacomo e Teggiano quest'ultimo per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato anche nel golfo di Policastro saranno chiamate alle urne due comuni quali Santa Marina al momento guidato da Dionigi Fortunato e Vibonati con l'uscente Massimo Marcheggiani resta fuori come noto il comune di Buonabitacolo che nelle scorse settimane poco oltre termini riconosciuti per legge per poter andare alle urne per sopravvenute dimissioni dei consiglieri ha dato inizio alla fase di commissariamento e dovrà attendere a questo punto la prossima tornata elettorale della primavera del 2017 oltre ai comuni della provincia di Salerno il prossimo 5 giugno saranno chiamati a votare per il rinnovo dei consigli comunali anche a Salerno e nel capoluogo di regione Napoli ieri sera la firma del decreto da parte del ministro dell'interno che aveva già precedentemente anticipato la probabile data e su cui attendeva solo l'ok del premier Matteo Renzi data quindi confermata e ufficializzata con domenica 5 giugno fissate le votazioni e nei comuni per i quali è previsto il ballottaggio qualora necessario si ritornerà alle urne il 19 giugno successivo non sono ancora stati resi noti modalità e giorni dedicati al voto che si suppone dovrebbero essere a breve pubblicati con l'ufficializzazione della data parte quindi il fermento per la preparazione delle liste con il termine ultimo per la presentazione che dovrebbe essere fissato ai primissimi giorni del prossimo mese nei comuni a scadenza di mandato le attività erano già da tempo partite nel Vallo di Diano le ultime vicissitudini politiche hanno portato a distanza di un mese circa l'uno dall'altro alla caduta delle due amministrazioni entrambe per sopravvenuta di missione della maggioranza dei consiglieri Teggiano in extremis è riuscito sembra rientrare nella prossima tornata elettorale discorso ben diverso per buon abitacolo che invece è costretto ad un lungo periodo di commissariamento a partire dal 13 aprile il mercoledì tutta la giornata e il sabato mattina ci sarà un servizio navetta comunale gratuito e per ora in via sperimentale a Montesano sulla Marcellana che toccherà tutte le frazioni vediamo i dettagli nel servizio sarà gratuito almeno nella fase sperimentale il servizio navetta comunale a Montesano sulla Marcellana il servizio previsto da due derivere di giunta rispettivamente dello scorso 17 e 30 marzo prenderà il via mercoledì 13 aprile e toccherà tutte le frazioni di Montesano il mercoledì ci saranno le corse sia al mattino che al pomeriggio e il sabato solo al mattino dall'ex scuola nella frazione Perrillo si partirà alla mattina alle 8 e dopo aver toccato le frazioni di Tardiano Magorno Capoluogo Prato Comune Renabianca Tempa La Landra si giungerà a Montesano Scalo alle 9 di ritorno invece da Montesano Scalo alla frazione Perrillo avrà avvio alle 11 al pomeriggio la corsa d'andata sarà alle 15 mentre il ritorno alle 18 ad annunciarlo è stato il consigliere comunale Giuseppe Rinaldi che ha dichiarato ringrazio il dirigente comunale Vincenzo Maglione che ha sostenuto fortemente quest'idea nata circa un anno fa ed oggi resasi realizzabile grazie anche alla disponibilità di due autisti comunali che prima erano impegnati nel servizio di scuola bus un impegno mantenuto ha aggiunto Rinaldi un servizio in più per la nostra gente un collegamento dei trasporti fondamentale per quell'idea fondante del nuovo PUC le cui bozze definitive sono pronte che definisce Montesano quale città Polo ben tornati in studio il fallimento e l'insolvenza sono stati i temi affrontati ieri nel secondo appuntamento del progetto formativo tutti gli aspetti della crisi d'impresa organizzato dalla Banca Montepruno secondo appuntamento questo pomeriggio presso la Banca Montepruno per parlare di crisi d'impresa argomento dell'ordine all'ordine del giorno la crisi d'impresa appunto il fallimento e l'insolvenza un tema importante come ha sottolineato ai nostri microfoni il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese oggi si parla come nelle altre due sedute di crisi d'impresa parlare oggi di crisi d'impresa è veramente un'impresa siamo in un momento storico della nostra vita siamo in un momento in cui la crisi dell'impresa passa attraverso anche il sistema bancario e ci siamo interrogati ci siamo interrogati con professionisti con commercialisti con magistrati dove è possibile uscire da questo momento di difficoltà lo stiamo affrontando come problema serio come problema sentito come problema importantissimo perché riteniamo che solamente facendo rete solamente stando insieme e facendo dei gruppi di lavoro così con questi professionisti a cui facevo riferimento prima possiamo certamente risollevare le sorti delle attività del nostro territorio e non solo nell'intervento di oggi si è parlato anche di fallimento di fallimento mirato io mi sono permesso di dire che non condivido la linea di un fallimento mirato perché dietro a un fallimento c'è sempre una scia che resta c'è sempre un qualcosa che fa male c'è sempre un qualcosa che poi resta resta alle persone resta agli uomini resta agli eredi per cui bisogna a tutti i modi cercare di scongiurare quelle che sono le insolvenze come? cercando di fare ognuno la propria parte la banca deve fare la propria parte capendo che siamo in un momento di difficoltà e deve cercare di stare vicino anche rischiando come possibile con le imprese i consulenti debbono capire che è arrivato il momento di fare chiarezza di fare trasparenza di essere d'intesa con la banca i promotori della salvaguardia dell'impresa stessa è un momento come dicevamo molto delicato però ecco tutti insieme possiamo certamente risolvere ci interroghiamo con questi compegni con queste lezioni di persone che sono all'altezza della situazione bene e continuiamo così perché ritengo che siamo sulla buona strada anche la numerosa platea qua presente stasera dimostra quanto è attento il problema dobbiamo come dicevo poco anzi fare attenzione che tutto ciò non si verificasse lo possiamo fare solamente stando con i piedi per terra aiutandoci e facendo del bene come possibile tre progetti per dar vita ad un sistema di trasporto integrato per collegare le città del centro nord con il cilento e il metro del mare invece per mettere in relazione tutta la fascia costiera per l'assessore Matera una grande opportunità per valorizzare l'area sud della Campania arrivano nuovi collegamenti via terra e via mare per raggiungere il cilento è in sintesi l'obiettivo dei bandi del progetto cilento blue club promosso dalla regione Campania e finanziato con risorse proprie e con fondi provenienti dal MIBACT che si propone di dare vita ad un sistema integrato di trasporto con la mobilità su ferro gomme e via mare per collegare le città del centro nord Italia Torino Milano Bologna Firenze e Roma con il cilento l'EPT soggetto attuatore del progetto ha avviato le procedure amministrative si tratta dichiarato l'assessore regionale al turismo Corrado Matera di una grande opportunità per valorizzare le potenzialità dell'area sud della Campania con cilento blue club si rilanciano le tradizioni i sapori l'ospitalità il mare la storia per attrarre i turisti che da quest'anno potranno raggiungere con maggiore facilità e comfort le località del cilento dal punto di vista strutturale l'intervento si articolerà su tre linee principali in primo luogo la mobilità su ferro attraverso un incremento dei collegamenti con l'alta velocità più il bus che saranno attivati dal primo giugno al 30 settembre 2016 nello stesso periodo è prevista l'attivazione anche di ulteriori treni regionali di Trenitalia sulla tratta Napoli-Salerno fino a Sapri in coincidenza con i treni ad alta velocità provenienti dalle città del centro nord Italia a tutto questo si affiancheranno i trasporti via mare per unire la fascia costiera cilentana con le città di Napoli e Salerno la costa amalfitana e l'isola di Capri in questo caso i collegamenti marittimi riguarderanno il periodo dal primo luglio al 31 agosto domani terzo e ultimo appuntamento con la rassegna leggermente gli attori della Cantina delle Arti interpreteranno l'opera Cari Mostri di Stefano Benni continua la serie di appuntamenti con leggermente letture interpretate una tassa di tè la rassegna organizzata dalla Cantina delle Arti e l'associazione Volta Pagina domani sera è in programma il terzo e ultimo appuntamento nel corso del quale sarà letta l'opera Cari Mostri di Stefano Benni alle ore 18 presso la sede in via Luigi Sturto a sala consiglinale gli spettatori saranno accolti da una tassa di tè e biscottini per poter meglio gustare il pomeriggio letterario una iniziativa che ha raccolto un ottimo successo e un crescente interesse facendo registrare nei primi due appuntamenti il tutto esaurito e sarà certamente così anche nella giornata di domani nel primo appuntamento con la rassegna gli attori della Cantina delle Arti hanno interpretato il Piccolo Principe l'opera di Antoine de Saint-Exupéry successivamente nel secondo appuntamento a marzo è stata la volta del Paese dei Diari di Mario Perrotta domani sera nell'ultima serata gli attori della Cantina delle Arti interpreteranno il libro Cari Mostri di Stefano Benni considerato il padrone dell'umorismo acuto penultimo turno di stagione regolare per il Valdiano domani contro il Castel San Giorgio un match importante per non compromettere i play-out vigilia di campionato per il Valdiano che domani pomeriggio allo stadio Vertucci di Teggiano è atteso da un importante scontro diretto contro il Castel San Giorgio una gara da non fallire per la squadra della coppia Camarota-Manfredini che in classifica ha solo una lunghezza di vantaggio sugli avversari di giornata una vittoria sarebbe di fondamentale importanza anche per ipotecare nella griglia play-out lo scontro diretto in casa per la salvezza che sarebbe a questo punto sempre contro il Castel San Giorgio sono tutte supposizioni al momento a 180 minuti dalla fine infatti della stagione regolare però i calcoli vanno fatti all'andata le due squadre hanno dato vita ad uno spettacolare 4-3 con il Castel San Giorgio vittorioso in rimonta ora Giordano e Soci vogliono una vittoria anche per trovare un po' di morale in vista della post-season per quanto riguarda la lotta salvezza di particolari interesse le sfide tra Scafatese Calcio e Sant'Antonio Abate e Mariglianese Massa Lubrenze è proprio quest'ultima partita che potrebbe riservare il risultato a sorpresa sarà un fine settimana importante anche per le parti alte della classifica il città di Docera primo della classe alla complicata sfida contro il Montesarchio si tratta dell'ultimo scoglio da superare per la formazione di Mister Maiuri a cui bastano 4 punti nelle ultime due sfide per blindare alla promozione in Serie D senza pensare a quello che farà invece l'FC Sorrento questo era il nostro ultimo servizio vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata per la prossima e vi ringrazio